Benvenuti e bentornati su Ratchet & Clank Rift Apart Eccoci qua con un altro episodio Allora, ci eravamo lasciati in questo preciso istante Anche perché sto registrando di seguito Così da poter fare più roba possibile Riprendiamo la storia e vediamo cosa ci... Cosa ci capiterà quest'oggi Piano piano, piano piano Salve Aspetta qua No, dammi la pistola Ok, così almeno ci prendiamo tutto Vediamo un pochino se c'è qualche... Eh, Raritanium, comunque andarlo a prendere non si... Ah, ma non possiamo selezionarli tutti Che merda Minchia, è nel casino No, 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 no Vediamo questo se può essere un pochino più vicino Sì, sì, sì Olè Vai Ok Poi dove dobbiamo andare? Forse da lei Siete pregati di ignorare le pentitune viola in cielo Questi cosa sono, scusate, ma non... Sprova la fabbrica facoltativo Trova Clank Vabbè, ma lei immagino che sia solo il mercante, no? C'è la mercantessa Salve, cara Possiamo... Ok, dunque, dov'era la statua? Vuoi essere l'anima della festa anche in battaglia? Funghigno Funghigno non ti deluderà Vediamo un po' L'arma è in grado di distruggere i tuoi nemici E di animare le loro feste di compleanno E il funghigno Lancialo in azione e colpirai i tuoi nemici Abbastanza annoiato, devo dire Il funghetto acceleratore negatronico Le leggende narrano di un'arma Che contiene un'energia di rara potenza Un raggio in grado di obliterare l'inizio alla semplice pressione di un testo Però Ok, quindi ci ho sbloccato questi due Vai, ricarichiamo tutte le munizioni Così siamo a posto Potenzialmente ne abbiamo tre Ma adesso aspetterei, sinceramente Ciao, cara Alla prossima Aspetta, aspetta, aspetta Qua vedo del Raritanium Due Bene, bene Opla Quasi parecchia roba Vai, vai No, mi dai per favore l'arma Ok Voilà Olè Questo? Vabbè Eh, finché ci siamo Ci sta a prenderli Ci serve per potenziarci Boom Di qua si può andare su? Oddio Boom Di qua Giusto? Vi fa vedere un attimo Scusate Protezione Che cos'è? Capsule di protezione Trovate una capsule di protezione Fornisce un incremento permanente Anche se non equipaggiata Può tenere altre completando le sacche dimensionali Esplorando i pianeti O svolgendo attività opzionali Ok Cos'è sta roba? Se vuoi personalizzare il tuo aspetto Premix per indossare una protezione Quadrato per modificarne il colore Ma cos'è gratis? Bello Mi ingrossa la coda Ma questo cos'è? Richiamo ad halo? No, vero? No, no, no Questa è figa Ci sta Uh, quella da predone Vero? Che figata Me lo ricordo su PlayStation 2 Questo Mamma mia che figata Io giocavo con mio fratello No Possiamo vestirsi come Clank Ma bellissimo Cacciatore di tesori Ok Andiamo con questo, va? Intanto non penso Modifica il colore Ma Ah, ma addirittura C'è quello verde No, aspetto Sbagliato Bello Ci sta Ci sta Mi piace Che figata Bello Collezionabili Ok Le nostre armi I nostri gadget Ah, ok Ho capito Galleria Ah, qua c'è tutte le spiegazioni Bellino, bellino Ci sta Ci sta Devo ancora capire la mappa Bene bene come funziona Perché Questo è Trova Clank Questa è la fabbrica Che diceva la tizia Proviamo No No, l'ho tolto L'ho tolto Aspetta 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 Dove deve andare? Di qua? No Di qua non si può andare Di là non si arriva Permesso Eh, addirittura Ma dove volete andare? Dove volete andare? Ok Olè Olè L'ho guidato la minaccia? Devo correre alla piattaforma di carico Alè Ehi, attento Sto lavorando qui E tra la notte Dobbiamo ritirare a spedire un milione di stati Che è sta roba? Palline? Dove dobbiamo andare? No, 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 no Aspettate Che non ci sto capendo un cazzo Dove dobbiamo andare? Eh, figa Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qui E niente Allora Forse dobbiamo saltare sopra sti cosi Olè Aspetta che Olè Guardiamo di qua Andiamo di qua Aspettiamo di arrivare lì In teoria dovrebbe essere quella la strada Sì, 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 sì Opla Qua E là Aspetta un attimo Vediamo tutta sta roba che ci serve Ma dove cazzo volete andare? Il nostro amico spiabot deve nascondere segreti di livello omega Se gli danno tutti la cazza Eh, infatti, sì Allora, vediamo un po' qua com'è la situazione Forse dobbiamo Saltare qui Poi non lo so Nooo Porta vacca Vediamo un pochino se qua si può passare da qualche parte Mmm Che cosa facciamo? Scusate Così, eh Ma La uso come rampa Opla Olè Siamo di qua Va a vedere Andiamo di qua Si può? Uh, petta, 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 petta Facciamo Vediamo il Il raritario Madonna mia Che è stato? Olè Vai, ritorna indietro E proseguiamo Falta qui Dobbiamo andare dall'altra parte? Sì, sì, sì Dobbiamo andare dall'altra parte Non ti permetterò di interferire con i piani dell'intera scelta Le bestiace non hanno il porto danno Ma fai zitta Permesso Attenzione Treno Scusate, ma mi serve la roba Boom Pochi ghiacci, pochi ghiacci Uh, rarità Ma state buoni Ma state buoni Che sta succedendo? Si è aperto una dimensione Cazzo, ridi Olè Siamo? Olè Eh va È un altro livello Dell'arma, ovviamente Però cos'è? Niente Un civile Un civile Ancora? Oh Madonna mia Oh Piano Aia Ma non ho più Eh andiamo Di fucile a pompa Di castigatore Qualcun altro? E lo spia Dov'è? Lì dentro Ah, è lì dentro Ok Ciao caro Ma è quello che ha rubato La tizia Ha trovato uno spia Botta della resistenza Uh uh Contengono informazioni Però Vediamo un po' Collezionabili No ho sbagliato Ha trovato uno spia Potella resistenza Contengono informazioni Segrete In forma audio Inoltre Cosa studisce Progetti balistici Codificati Trova lì tutti E consigliere A Miss Urcor Per ottenere L'arma Definitiva Sono passati Dieci anni Dalla caduta Di Corson 5 Quando questo Immondezzaio È sorto Dalle ceneri Come una Pustola Di Blarg L'imperatore Aveva promesso Pace Ah ok Se cambiamo Che peccato Vabbè Olè Abbiamo fatto questo Siamo presi sto coso Perfetto Perfetto Dove devo andare? Andiamo un pochino No Non penso che Devo andare Di qua Di qua Mi sa Madonna Olè Chi è? Ah ok Però Aia Dai 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 Ha un'altra boss fight In pratica Con quale voce No Oddio Bellini Per bellini Anche te Eh no Mi spiace Ahia Puttana Che male Oddio Attenzione Attenzione Opla No Non di nuovo No Eh te pareva Anche lui però Vorrei distruggerti Fretta Sempre se non ti dispiace Aspetta Aspetta Anche noi Che hai rotto il capo Che bagarotto No Boom Ora posso inserire glitch In questo terminale D'accesso Ok Aspetta un attimo però Che se c'è già qualcosina Da prendere Noi la raccattiamo su Eh Un po' di vita Voilà Perfetto Perfetto Vai Usiamo glitch Piccolo Ragnetto Robotico Ehi Ciao Tu sei Glitch Io sono Ratchet Scusa Per tutto Il trambusto Di prima Non gli stiamo Non simpatici In effetti Credo che tu Sia la mia Unica Speranza Grazie Che robetta Vediamo un po' Che figata Ne abbiamo dei mini giochetti Da fare con lei Elettro pistole Boom Ok Devo capire Un po' Che figata Ma che cazzo Ehi Smettila L'infezione sta regredendo Bene 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 Forse ora Ora è il caso di occuparsi degli altri Non so perché Ma mi ricorda Il ragnetto lì Di Spiderman Stiamo uscendo Da quell'affare Oh no 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 Devo cancellarli Prima che diventino troppi Ne abbiamo cancellati Stai calmo Stai tranquilla Ah Aiuto Via 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 Oddio Olè Fatto Bene Che figata Ma è bellissimo E' abbastanza intrepanta Vedi Olè E l'abbiamo portata a casa L'hai fatta Glitch Bentornato Vostra maestosissima maestà Andiamo Ok Adesso dobbiamo andare al palazzo di Nefarios Proprio nella navicella Tra mole l'età Questa no Cinque cannoni planetari pronti al fuoco E in più un sistema di sorveglianza sull'intera città Se solamente il dimensionatore funzionasse ancora Bellissimo A posto Prendetelo Ora Ma chi è il doppiatore di Nefarios Non mi viene in mente chi è Che cosa ha fatto più che altro Arrivo Clank Ma è famosissimo No 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 Benvenuto mio signore supremo A posto La sua password Nefarios 1 2 3 Ah Ma che serve una password? Sono l'imperatore Ubbidisci o ti farò distruggere Ah 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 Ma porco due Guardatemi Quella Ole Ce l'abbiamo fatta Sargassi Avamposta L 51 Che bello Dimensionatore è stato rubato dal dottor Nefarios Che l'ha usato per portarvi qui E ora stai cercando il tuo amico Che è anche miracolosamente un lobax Per salvare il mondo E tornare a casa Devo proprio sembrarti un idiota Senti Non dubito esista questo dottor Nefarios Ma a me sembra proprio opera dell'imperatore Vabbè sono la stessa persona Sotto attacco Qualcuno c'è Mort Che succede? Oh Che è? Oh mamma Reggetti forte Oh Attenta Certo che sto attento Un povero tartarugona Bello sto pianeta già mi piace Che figata Bellissimo Siamo con lei? Trovo un modo per Ah Siamo con lei Vediamo un po' Questi cosa fanno? Ma dove dobbiamo andare? Verrà di Tanion bello Bene 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 Quindi possiamo fare anche con lei Ah Interessante Interessante Boom boom Ragazzi Erano occhi Ah ok Possiamo andare anche con lei Beh giustamente Immagino che gliel'abbia insegnato Anche a lei Beh Che bellino Direi che qua si muore Se non si sta attenti Cos'è un millelame? Cos'è un millelame? La palude di acido Intorno alla fabbrica De morta Si sta espandendo Sembra Che l'acido Non infastidisca Quegli scarafaggi Catturano Sparafaggi 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 Ma bellissimo No Li ho fatti scappare Ahia Ma guardate Ma porca Come faccio A raggiungerli? Ahia Ma guardate Che cazzo di Nuovo livello Come faccio A mettermi giù? Tondo no? Vabbè Probabilmente Dovremmo proseguire Cosa sono Quelle mosche? Cos'è sto cappello? Un cappello? Aspetta 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 Cos'è che è? Oh Piano 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 Che cazzo Si gonfiano Cazzo Sono le palline Antistress Olè Guardate la creatura Come si ciba Ma che figata Ma bellissimo Da quella grotta Si diffonde Una distorsione Dimensionale Ma che cazzo Si vuole Dove se ne va? Cos'è Ser Tu Fa niente Ecco E l'ultimo Sparapaggio Corre in quella Specie Di Varco Interessante Anche nel tuo Guardo E' presente Un fendilink Olè Ok Robogenio Dove ci troviamo? Che sia Una sacca Dimensionale Forse Dipende Dalla distruzione Del dimensionatore E' Maynard L'aiutobat Dei morti Deve essersi Intrufolato Nella fenditura Salve caro Che cazzo è nana Videocamera Ambulante Oh Finalmente Oddio Fa da solo? Come Oddio Un R1 Si accelera Figo Dobbiamo seguire Lì Il robottino Ambulante Ha tutto Gas Ah bellissimo Com'è che rappata Lei Uh piano No Abbiamo scazzato Il checkpoint No Dov'è? Ah No di nuovo Che palle Minchia da qua Vai vai Bomba Bomba Bellissimo Cos'è Lì La lumaca Che andava veloce Il cartone Turbo Tutta randa Tutta randa Ah è lì Quello che avevamo usato Oh no Dentro Vai vai Tutto gas Tutto gas Oddio Occhio Piano Mi sa che ha fatto una brutta fine Lo sparafaggio Stiamo cercando Quell'ombax E il suo amico Di latta E non lasceremo certo Che sia una banda Di peluche Affermarci Hai nove secondi e mezzo Per dirci dove si sono nascosti Nove secondi e tre dita lui Bellissimo Andiamo Ehi Ok E uno Ehi So io dove trovare Una lombax Ed è anche parecchio arrabbiata Altra lombax Dici dove la tua amichetta Chiuscola Ma state buoni Boom boom Bam Altri? Eh no Mi spiace per voi Ma non scherza Un cazzo Non si scherza Piano Ok È andato un po' a culo Allora Ma che carini Sti esserini Noi? Oh Quei bestioni Cercavano un lombax Ed eravamo in pena per te E da un momento all'altro Sei arrivata a salvarci Sì ma E tutti gli altri? Beh Alcuni morti Sono intrappolati in quel coso Non chiedermi cosa sia So solo che diventa più grande Tra quello e il nuovo inquilino Lassopra Non è un bel periodo In effetti Tranquilli Me ne occupo io O intanto Per tenervi impegnati L'ho preso da Zurchis Così morto potrà finalmente Riparare l'astronave Da Zurchis? Spero che i pirati Non ti abbiano dato problemi Eh Un pochino Lo darai direttamente a morto Quando l'avrai tirato fuori Da quel vortice viola A posto Immagino che Vai al rifugio Può vedere Porta Clank al rifugio di Rivet Esamina l'anomalia dimensionale Ma prima esaminiamo l'anomalia Vediamo un pochino Ok Non toccare Capito Posso controllare Io Ho una discreta esperienza Con le anomalie Dimensionali Io Certo Ah 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 Mistico Oddio Ah Salve Benvenuto Ma chi è? Dove sei entrato qui? Dove sarebbe di preciso Qui? Oh Non lo sai Beh Neanch'io Lo definirei A posto Di spazio tra le dimensioni Forse non è nulla Forse è una palentropica catena Che da qui a breve Tramuterà l'universo In una brodaglia informe Vedremo Oh Oh mamma Beh io sono Clank Se posso aiutarti Giusto Oh sì Clank E io sono l'onniscente profeta cosmico Nel settore interdimensionale 2255 Omega Fasico Ma chiamami Come scusa Dico capito Ex Guerrabot Alleato con il Lombax Sei diventato un eroe Complimenti Uh Uh Eri amico di mio padre Ma c'è Tuo Padre Forse sei la persona Che stavo aspettando Mi aiuteresti a riordinare le dimensioni Va bene E perché ci sono in giro copie di me? Sono le tue possibilità La chiave per riparare questa anomalità Va prima raccogli quella sfera Questa è una sfera levitata Può ridurre la gravità di qualsiasi cosa A quanto pare Le tue possibilità possono impedire il collasso delle anomalie Sono identiche a te perché riflettono la tua interpretazione della dimensionalità Ma come puoi impedire Ci sono smarrite Se ne guiderai al prossimo metaterminale Potrai iniziare a riparare l'anomalità Ah ok Entra nel metaterminale E avrai compiuto il primo passo per riparare questa anomalia dimensionale Ok Grazie capto Stato facile dai Ah ok Giustamente Troppo facile Iniziare a capirci qualcosa Dimensionalmente parlando Vediamo questo Ok Forse però ci serve Prima qua Ok Aspetta Prima qui Ma non basterà Forse dobbiamo metterci Questo Me la dai? Grazie Così forse O là Yes Così Forse Ma ha girato di nuovo Ma ha girato di nuovo O là Attraversiamo il barco qua Sento che imparo qualcosa Completando questi enigmi Ma non riesco a capire che cosa Troverai le parole al momento Cosa fa? Ah lo tiene su Perfetto Possibilità verso l'ultimo Meta terminale E non permetterti Ansia ma C'è molto in ballo Tipo Molto moltissimo Questo qua le fa andare di là Questo risolverà i danni Che ha causato in questa dimensione Madonna si gettano nel vuoto Le anomalie si stanno diffondendo Troppo in fretta Temo che un cataclisma dimensionale Sia imminente Posso prendere la palla? Vieni qua per favore Boom Ok Ah si 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 Facciamo così Vediamo se riusciamo Uh Che cazzo devo fare qua? Aspetta eh Dove sono? Che sta succedendo? Mi ha sempre aiutato a affrontare i problemi E niente Concentrati sull'immediato Ok Vediamo se ce la facciamo Non ce la facciamo Spero di non essere inopportuno Ma credo ci siano altre sfere da recuperare Aspetta 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 No 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 Mettila qua Cambiamo Metti questa E andiamo In teoria Olè Bene No Ma vaffanculo Ma perché? Allora Mettiamola qua Vieni qua Vieni qua No Questo non Non va mica bene lì Toglielo da qua Mettilo qua Abbiamo bisogno che quello stia aperto Vieni qua Vieni qui Adesso giriamo questo E facciamo passare i nostri I nostri fantasmini Vediamo un pochino Ok ci siamo Aspettiamo che li fulmini tutti Ok Che casino però mamma mia Ole Sparati Nell'universo Qua Pla Grazie caro Alla prossima Immagino Al che io dico Senti mort Tu mort e mort Nascondete la limonata Prima che torni mort Wow Mi hai salvati Eh già Come hai fatto? Io Non lo sappiamo neanche noi Rivetto Che bello vederti Guarda che c'è Non sai che razza di giornata Il mio viaggio a Nefarious Sieti è stato un vero disastro Ho distrutto la nave Questo pensa la cara Vecchio morto Ecco A patto che tu abbia trovato Il pezzo che mi serviva Eccolo qua Mi metterò a nuovo Quist'astro carretta Ole Meccanico quantistico Vediamo un pochino qua Sono sbloccato Il irrigatore botanico Vediamo un po' che fa Ah Però Ma bellissimo I nemici non colgono Rimpallatore Bellissimo Ma il rimpallatore ci vuole Dai Quanto è figo Quanto ne abbiamo Vai Vai vaffanculo Mi piace Mi piace Ricarichiamo Potenziamo Vediamo un pochino Rimpallatore Cos'è che ha in più Di potenza Incrementa la finestra temporale Per I danni bonus Ci sta Dai Questo qua invece Fa rimbalzare i colpi Del rimpallatore Per infliggere danni extra Vai 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 Questo invece Incrementa le munizioni massime Va bene Questo qua Ok Perfetto Dai Proviamolo subito Prima di perpetutamente R2 Ok Ok Oh bello Cos'è quella creatura Che figata Un gruntor Un gruntor Boom Vediamo Boom Sì che bastano Occhio che carica Ma dove pensi Di andare Aia Che trambata Sei anche testardo Sei anche testardo Come gruntor Oh Ha ben finito Aia Ma porca miseria Oddio Bellissimo No Sbagliato 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 Mettimi Oh Ma basta Ok ok Ci siamo Ci siamo No Non posso andare Con la pistola Allora devo andare Come Olè Di sparafaggi Quindi Di qua Ok Vediamo tutto Voilà Salve caro Lasciate stare I nostri amicetti Amicetti Amichetti Oh Piano Ma dove sono Ma dove sono Olè Vabbè Qua Qua Siamo Di impallatore Amma mia Quanti trofei Piano Piano Ma sta buono Dov'è Ma dove vuoi andare Dove vuoi andare Quanti Quanti Siete Sbagliato Sbagliato Tantissimo Eh la madonna Si compenetrano Opla Eh però Anch'io Che mi metto Nell'area E come Abbiamo finito I colpi La facca Dov'è Ma devi venire qua Ah però Uh Ok Finalmente Avevamo appena Finito Di blindare Il tuo rifugio Quando sono Arrivati Quei tizzi Olè E invece Ce l'ha fatto Vai Tocca prendere Qualcosa Per saltare Dove andiamo Aha Vedi Vedi Vai L'avevamo già pensato Il rifugio è vicino Peccato solamente Che ci sia un altro grunto Ecco Me ne sono penito Piano Ma entrambi Come andrà a finire Peccione Piano Andiamo un po' Aspetta 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 Oh Nella faccia Nella faccia Nella coscia Nella coscia Ok Madonna Stira Tira Nocchietti Oh E basta Piano Nocchietti Mamma mia Aspetta Aspetta Madonna Come è incazzato Aia Uh Munizze Olè Madonna mia Che fatica L'abbiamo quasi Rimesso alla vita Olè Cosa Cosa Dobbiamo fare qua Ah ok Dobbiamo farlo con Lo sparafaggio Poverino Poverino Se solo potessi parlare Con Rece Aspettate un attimo Che qua ci dà la roba Vai Voila Ma è una casa pericolosa Cazzo Devo solo scansionare La tua memoria E l'infobot Che ho preso A Nefarius Asseghi Vai Tira su Vediamo Casina Però Salvi Per ora Ah no Anche lei Aveva preso Sto spiabot Qui Questo Non è affatto Necessario Tostadi Non ci credi Ok Così Era la verità Come ti ho ripetuto Più volte Il tuo Nefarius È molto simile Al mio Soprattutto In cattiveria Mentre il Lombax So che può sembrare Assurdo Ma Pensi che sia La tua controparte Dimensionale Che potrebbe essere Che potrebbe essere Non so che succede Ma insieme Insieme Pensavo che i robot Non facessero per te Non vale per tutti Ma Quasi A partire Dall'imperatore Dall'imperatore I suoi scagnozzi I pirati Già È ironico Ha detto da me Lo so Oh Chiedo scusa Non intendevo Tu ti scusi Dopo che io Ho frugato Nel tuo Cervello Diario E che esplode Addio rifugio Ah il metallo Eh ma che sfiga Cazzo Ma povero Clank A le Mi ridaglie Questa petta qua Sto Sparapaggio Uh piano Eh sto andando già A tutta velocità Occhio alle bombe Occhio alle bombe Mamma mia Attenzione Permesso Scusate È nostra intenzione Ok più o meno Cosa dobbiamo fare Uh piano Ah dobbiamo prendere le rampe Cazzo Eccole Eccole Però Allora Bello Aia No in realtà no Però Ridacci indietro Clank Muoviti Uh nuova abilità Bene bene Mi aspettavo di meglio Vai 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 Opla Vai 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 Ok ok Piano piano Ecco Te pareva Che carini Che carini Sti sparafaggi Vai Lanciami tutto quello che vuoi Tanto non mi scapperai Piano Devo salvare la tina Devo salvare la tina Madonna Di qua Di qua Permesso Eccolo Voilà Saliti Penso Ok Boom Che figliato Troppo divertente Sto giochino Troppo divertente Mamma mia Che spettacolo Ok Nuova Boss fight Secondo round Madonna Madonna mia Vai 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 Zimpiniamo Che 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 Cosa fa Cosa fa Ok Passa con la coda E certo Metto in posa Bella Oppala Ho in bella posa Aia Volevi Aspetta un attimo Lo prendiamo No Ma fa buono Dai 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 Che ci siamo quasi Vai 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 Opla Dai Olè Che disdetta Che disdetta Bellissimo Boom Bellissimo Tutto bene Lattina Tu Mi hai salvato Grazie Sì Beh Abbiamo ancora Dei conti In sospeso Chissà se morta Ha riparato L'astronave Nuove destinazioni Aggiunte Mille lame Spuntate Ok Quindi Se vuoi Posso installare Un amplificatore Di segnale Per il tuo comunicatore Sarebbe Magnifico Allora Io direi di salutarci qui Che se no andiamo troppo per le lunghe Come al solito io vi invito a lasciare un mi piace Condividere il video Lasciare un commento Eccetera eccetera Iscrivetevi al canale Perché no Così possiamo continuare L'avventura insieme E come al solito Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Vedete che salutano anche i ragazzotti lì Grandi Ciao a tutti